Eccellenze che incontrano eccellenze. Dal cuore del Trentino ogni anno dall'antica distilleria Marzadro pardono un milione e mezzo di bottiglie, preziosi distillati che arrivano in Italia e in Europa con artoni, quasi 13 mila spedizioni l'anno. Oggi la qualità del prodotto da sola non è più sufficiente, ci deve essere una qualità totale partendo dalla materia prima fino ad arrivare al punto vendita. Tutti gli anelli della catena sono importantissimi e dobbiamo fare qualità. Da una decina d'anni la Marzadro affida quote crescenti delle sue produzioni all'artoni, circa 86 mila quintali di vera eccellenza italiana. Aziende e territorio, se Marzadro è dal 1949 in queste valli, un motivo ci sarà, promuovere i territori. 40 mila visitatori nel vostro stabilimento di produzione, nella distilleria, un significato ce l'hanno. Il territorio è la nostra fortuna, è il nostro valore aggiunto e la gente, il turista ha sempre più voglia di conoscere cosa c'è nel territorio, cosa si fa nel territorio. Puntare all'eccellenza, una lunga storia di oltre 60 anni che è arrivata a un punto di svolta grazie a un'intuizione, 18 Lune. Sì, 18 Lune è stato forse il nostro crocevia, i veri cambiamenti dell'azienda sono stati fatti ad opera di 18 Lune. 18 Lune è stato un progetto felice che ci ha portato e ci porta tutt'oggi dei bellissimi risultati, ci ha dato la possibilità di far assaggiare un prodotto come la grappa e farlo conoscere in Italia ma soprattutto anche all'estero. La grappa piano piano si sta ricavando uno spazio, chiaramente uno spazio dedicato a prodotti di qualità che il consumatore riesce a capire e apprezza. Azienda di famiglia La Marzadro, azienda di famiglia Lartoni, la vostra terza generazione è già in azienda, eccellenze che scelgono eccellenze, anche questa è una strada che consente di guardare risultati importanti. Ci piace lavorare con fornitori di servizi di qualità. Continueremo con questa bella collaborazione che a noi dà veramente una grande soddisfazione e soprattutto soddisfazione da parte dei nostri clienti.